umanità fratellanza fede comunione creato pellegrini di speranza il motto del giubileo 2025 l'anno santo con il quale papa francesco invita la chiesa gli uomini le donne del nostro tempo e soprattutto i giovani a riscoprire il tema della speranza il pellegrinaggio il cammino verso roma la porta santa la professione di fede la carità il perdono gesti semplici da un grande significato teologico che rimangono segni permanenti del giubileo dal 1300 ad oggi ogni anno santo ha sempre rappresentato nella vita della chiesa e dei popoli un evento di grande rilevanza spirituale ecclesiale sociale un accorrere di popolo che chiede di poter sperimentare e toccare con mano il perdono e la misericordia di dio hanno segnato come pietre miliari il cammino della chiesa e continueranno a farlo nel futuro sono i giubilei per la chiesa e continueranno a farlo nel futuro sono i giubilei grazie a tutti